Ciao a tutti! Allora, scusate la posizione del cellulare, non vedrete me, vedrete i miei bracciali Pandora. Ho visto che il video che ho fatto l'altra volta vi è piaciuto e siccome ho altri, ho dei aggiornamenti dei miei bracciali, volevo farveli vedere. Allora, non fate caso, vedete il barattolo, un barattolo a cui ho appoggiato il telefono per fare il video. Io non ho, diciamo, supporti per reggere il telefono, proprio perché non mi capita mai di fare un video con questa angolazione, quindi alla fine ho preferito metterlo così. Ecco, allora, vedrete gli aggiornamenti, perché c'è qualche charm che ho comprato nel frattempo, quindi dall'ultimo video che ho fatto sull'aggiornamento dei miei bracciali Pandora, si sono aggiunti altri gioielli, quindi ve li faccio vedere. Allora, partiamo con il più vecchio, il più vecchio è sempre questo. L'ho reimpostato perché ogni volta che io lo smonto, lo pulisco, quindi lo metto a bagno ad acqua tiepida e sapone neutro per lucidarlo, ovviamente non lo ricompongo come era prima, perché, a parte perché dovrei memorizzare la posizione di tutti i charm, ed è anche piuttosto complicato, ma perché ogni tanto mi piace cambiare, quindi fondamentalmente, allora, questo qui ha la chiusura classica con il cuore pavè, è tonda con il cuore pavè, con scritto Pandora dietro, vedete. Allora, questo qua, questo bracciale qua, ha tre anni, sì, perché il mio marito me l'ha regalato San Valentino, il Salvantino di tre anni fa, insieme a dei charm che adesso vi faccio vedere. Dunque, qui c'è uno stopper che ho preso su Aliexpress che impedisce alla catena di sicurezza di girare sulla filettatura di apertura, quindi impedisce praticamente alla catena di sicurezza di viaggiare sulla filettatura, sia per evitare che il bracciale si perda, perché se anche con la catena di sicurezza, se la catena di sicurezza gira sulla filettatura, rischia di perdersi, perché uscirebbe da questo piolo. Questa è la catena di sicurezza, è una classica catena di sicurezza, quelle più semplici, quella con i cuoricini sulla chiusura qua, sulla avvitatura, ecco. Qui abbiamo un charm che si chiama Incantevoli Gufi, come vedete il piccolino sta perdendo i dettagli, perché l'argento è un materiale morbido, che ovviamente con l'usura tende a perdere i particolari, ma questa è una cosa che purtroppo sappiamo tutti, perché funziona così. Questo qui è un gufo, io vado matta per gufi e civette, ormai penso che lo sappiate. Questo è un gufo con gli occhi verdi, si chiama proprio gufo con gli occhi verdi. Questi sono tutti charm fuori produzione, che non si trovano più. Forse questo qua ancora si trova, ma questo è difficile da trovare. Poi abbiamo un distanziatore, questi qua sono, questo è con l'infinito, i distanziatori servono, diciamo, per distanziare un charm dall'altro. Sono dei piccoli charm tondini, ce ne sono di diversi tipi, io però questo è l'unico che ho, perché fondamentalmente mi sono resa conto che non mi sono molto utili i distanziatori, non mi interessano più di tanto. Questa è la carrozza di Cenerentola, della edizione Disney, ha la parte superiore in oro, con un pelucco all'interno. Non fate caso, perché, vabbè, poi lo sistemerò. Questa è la carrozza, la parte superiore non c'è, questo azzurro non esiste, è un pelucco di un maione o di... Questa parte è in oro e poi c'è tutta la carrozza che ha i brillantini tutti qua. Questa è una clip, questa me l'ha regalato mia suocera, ecco. Questa è una clip costellazione rosa, questa è la clip costellazione rosa, ed è la prima delle clip. Cosa sono le clip? Le clip sono, ora vi faccio vedere, questo è un plettro, che io utilizzo per aprire le clip senza spaccarmi le unghie, ecco. Allora, le clip sono praticamente dei charm che si chiudono, così, che vanno sulle filettature. Questo è un bracciale moment con filettature. Le clip servono a suddividere il bracciale in tre sezioni e a impedire che il bracciale si deformi. Perché i charm che scorrono su tutto il bracciale possono incastrarsi sulla filettatura e rompere il bracciale o il bracciale può deformarsi perché il peso dei charm non è ben distribuito. Poi abbiamo la... Questa l'ho presa in una promozione Pandora 2x1. Poi vi farò vedere. Poi abbiamo la... La corona della principessa. Qui in realtà ci potrebbe andare un altro distanziatore, ma preferisco lasciarlo morbido così. Qui abbiamo la corona della principessa, sempre dell'edizione Disney. È una corona con un cuore di Swarovski e tutti gli Swarovski qua, sulla corona. Questo è, sempre edizione Disney, il cuore nero della regina. Questo è della... Della linea Biancaneve. Abbiamo la corona e il cuore della favola, ovviamente. Qui tutti i Swarovski bianchi e questa grande pietra nera. Questo è il... Il passerotto di Biancaneve, sempre dell'edizione Disney. Questi li ho acquistati con la promozione di quest'estate 3x2. Acquistavi 3 charm, il meno caro era il regalo. Ho presi diversi in quel periodo. Questo è il cuore di principessa. Vedete, ha una corona dorata sopra, gli Swarovski bianchi e uno rosa centrale. E dietro c'è scritto Princess. Questo è il... L'ho acquistato... Diciamo acquistato, tra virgolette, nel senso che è stato un cambio. Ho cambiato purtroppo i popcorn che si erano rovinati, quindi ho acquistato questo. Questo è l'altra clip. Questa è una clip molto semplice. Si chiama Pizzo. È molto molto semplice, molto bella. Mi è piaciuta tanto perché... Questo è uno dei charm che mio marito mi ha regalato insieme al bracciale, quindi il primissimo charm che ho avuto. Si chiama Cuore Mastoso ed è un charm fuori produzione. Questa è la sua iniziale. Questi due è il bracciale che mi ha regalato, quindi questi charm hanno tre anni. Questo qua è la sua iniziale. Mio marito si chiama Yuri. Questo me l'ha regalato mio papà ed è gioiello luminoso bianco, credo che si chiami. Comunque, è sempre tutto fuori produzione. Qui abbiamo l'unico pendente di questo bracciale ed è il Lucky Penny. Da questa parte c'è uno e da questa parte c'è il ferro di cavallo con il quadrifoglio. Questo l'ho acquistato da una ragazza, è un fuori produzione. Catena di sicurezza, stopper e chiusura. E questo è il primo bracciale, quindi questo è il bracciale più vecchio che io ho. Ovviamente i charm all'interno non sono tutti più o meno della stessa periodo. Questo è il secondo bracciale che ho terminato in sei mesi, quindi questo l'ho finito in modo veloce. Me l'ho regalato mia sorella. Allora, ha una chiusura così, questa chiusura, questo bracciale si chiama prato fiorito ed è sempre un bracciale con filettature. Quindi c'è questo fiore, questo fiore, con un fiorellino più piccolo, i cristalli da questa parte sono viola. E poi qui c'è un pendente a forma di coccinella, eccolo qua. Filettature, eh filettature scusate, stopper, questi li ho presi da Aliexpress, vedete come sono carini, che hanno all'interno il silicone. Questo è tutto argento con dei fiori, con lo smalto, sono proprio belli. Poi abbiamo catena di sicurezza, questa catena di sicurezza si chiama prato fiorito, è proprio la catena di sicurezza della collezione del bracciale. E qui ha un piccolo Swarovski lilla. Poi abbiamo un pendente che me l'ha regalato mio marito sempre per... Il 90% dei miei charm sono regali. Questo me l'ha regalato mio marito per una festa della donna qualche anno fa. E' l'orchidea, questo bel colore così. E al centro c'è un cristallo Swarovski lilla. Questa è la seconda parte della promozione 2x1 dell'anno scorso. Questo è il gioiello luminoso. Questo è il charm che praticamente ho preso in regalo, perché l'anno scorso, per il periodo dei saldi, in questo periodo c'erano il 2x1. Acquistavi due charm e il meno caro era in sconto. Poi abbiamo, questo è con i saldi di quest'estate, Magnoli, Fior di Magnoli credo che si chiama, non mi ricordo. Non ti scordare di me è una cosa del genere, ecco. Vedete, è tutto Swarovski con al centro 1 lilla. Poi abbiamo il topino col palloncino, sempre per i saldi... No, questo per i saldi di due anni fa. Questo per i saldi di quest'estate invece. Questo l'ho preso, il topino col palloncino l'ho preso per i saldi di quest'estate. E' praticamente smalto brillantinato con un topino e due topini che si baciano e un poricino Swarovski qua. Una, la prima clip. La prima clip, questa è Margherita Bianca credo che si chiama, che poi non è più bianca purtroppo perché avendo i capelli fucsia lo smalto bianco è diventato rosa. Ma chi se ne frega nel senso, non è importante. E quindi questo è la prima clip. Poi abbiamo Bruno l'unicorno che mi ha regalato mio marito per Natale quest'anno. Ed è un unicorno troppo carino con i piedini a forma di cuoricino. La tazza di cioccolata che è per l'edizione... è limited edition di... Scusate, mi è squillato il telefono e quindi si è interrotta la chiamata, dicevo, dal video. Questo è il charm, quindi dell'edizione natalizia di quest'anno. È in edizione limitata ed è diventato introvabile praticamente subito. Allora, ha il bastoncino di zucchero, la panna che è i brillantini, brillantini, che poi non sono brillantini, sono perline d'argento. E quindi l'ho preso a settembre, ottobre. Quando è uscito perché ho detto va subito in fuori produzione, infatti non è trovabile. Abbiamo il... Oh, scusatemi. Il dragone cinese, che è uno dei charm nuovi che ho. Il dragone cinese, questa è un'esclusiva estera dalla Cina. La zucca di Halloween, che mi ha regalato mia sorella per il mio compleanno a settembre. L'altra clip, fior di magnoli. Poi abbiamo il pendente, questa metà di questo pendente devo darlo a mia sorella, perché mia sorella prima non aveva il bracciale Pandora, adesso ce l'ha. Questo me l'ha regalato lei, metà lo dono a lei. Questo me l'hanno regalato i miei amici per il mio compleanno ed è praticamente un open work fatto tutto di cuoricini. La bambolina cinese, quindi questa qui è la Kokeshi, sempre esclusiva estera. Io questi li compro sui gruppi privati. Poi abbiamo il cuore di pizzo, rosa. È un cuore di smalto rosa con un fiocchetto. Me l'ha regalato la mia mamma. L'altra parte della catena di sicurezza è lo stopper. L'ultimo bracciale l'ho scelto senza filettature, proprio perché volevo qualcosa che rimanesse continuo e che non avesse la suddivisione in tre. Questo, come vedete, è senza filettature. Ed è l'ultimo bracciale. Chiusura classica, tonda, Pandora, Pandora. Scritto da una parte e dall'altra. Vedete? Ecco. Poi abbiamo, questo l'ho preso per questi saldi, ma ovviamente non era scontato. E poi abbiamo invece gli acquisti che ho fatto con i saldi. Ho preso il gioiello luminoso viola intenso. Vedete com'è bello, brilla tantissimo. Il pendente con i due uccellini mamma e figlio che si baciano. Con un fiorellino qua e tutti gli svaroschini. Allora, non so se riuscite a coglierlo da qui. Sono tutte variazioni di rosa e i brillantini. E poi abbiamo questo charme che credo che si chiami primavera, una cosa del genere. Comunque ha tutti questi fiori. È il cristallo rosa qua. Vedete? Tutti i brillantini, tutti attorno. E questi sono i miei bracciali Pandora. Ora, non so se prenderò altre cose con i saldi. Penso proprio di sì, perché ancora i saldi sono in corso fino al 31 gennaio. Quindi probabilmente prenderò qualcos'altro. E nel caso vi farò gli aggiornamenti. Vi saluto, vi ringrazio. Al prossimo video. Ciao!